Ciao a tutti, in questo video vorrei mostrarvi come creare un elemento a partire da Mix & Match e come modificare Wikidata in modo più veloce ed efficiente per mezzo di alcuni gadget attivabili nelle vostre preferenze e nel vostro CommonJS. Partiamo dalle vostre preferenze, ovviamente per entrambi questi tipi di gadget dovete essere registrati su Wikidata. Dalle preferenze recatevi nella sezione accessori, controllate di aver attivato i seguenti gadget. Move, che vi permette di spostare un sitelink da un elemento ad un altro. Foi, Duplicate References, che vi permette di copiare un riferimento da una dichiarazione ad un altro in uno stesso elemento. e CurrentDate, che vi permette di aggiungere automaticamente la data odierna alla proprietà Consultatoil, che è una delle più usate nei riferimenti. Fatto ciò, salvate le vostre preferenze. Adesso passiamo al CommonJS. Recatevi nella vostra pagina utente, aggiungete all'indirizzo slash common.js, controllate di aver attivato i seguenti gadget. Il Mix & Match Gadget, di cui avevamo già parlato la volta scorsa. Il gadget Duplicate Item, che vi permette di creare una copia di un elemento. Può essere utile se, ad esempio, dovete creare due o tre elementi molto simili tra loro. Il gadget Move Claim, che vi permette di spostare una dichiarazione da un elemento ad un altro, oppure di copiarla. Sono tutti molto facili da usare e facilitano di molto il vostro lavoro. Fatto ciò, salvate il vostro CommonJS. Bene, ora possiamo passare ad un esempio pratico. Cerchiamo ora un elemento da creare su Mix & Match. Cerchiamo un catalogo e vediamo all'interno di questo catalogo quali siano i nomi, ancora non abbinati, che siano presenti nel maggior numero di altri cataloghi su Mix & Match. E vediamo ora il primo risultato. Abbiamo nove elementi su Mix & Match che presentano il nome Salvatore Abruzzese. E come potete vedere dalle informazioni di questi cataloghi, abbiamo su Vichidata un unico elemento Salvatore Abruzzese dedicato a una persona nata nel 1950. Di conseguenza, tutti gli abbinamenti con persone nate nel 1954 sono scorretti e vanno rimossi. Quindi rimuoviamo innanzitutto gli abbinamenti errati, che erano questi due. Questo, come vedete, è un abbinamento manuale e corretto. Vediamo questi abbinamenti, gli altri, questi tre, uno, due e tre, se siano corretti o meno. Qui è difficile stabilirlo, perché vedete non ci sono libri, ma verosimilmente è un abbinamento scorretto. Questo è senza dubbio un abbinamento scorretto e anche questo è un abbinamento scorretto. E quindi rimuoviamo tutti e tre questi abbinamenti. Quindi è evidente che, a parte quest'unico identificativo abbinato manualmente, tutti gli altri identificativi, gli altri sette identificativi, siano da abbinare ad un nuovo elemento. Allora, usiamo il tasto Toggle Checkboxes, che ci permette di indicare che tutti questi sette identificativi dovranno entrare nel nuovo elemento, e creiamo l'elemento con questo tasto. Ora attendiamo che l'elemento si crei. Come vedete, l'elemento è stato creato. Entriamo nell'elemento. Innanzitutto possiamo standardizzare la descrizione. Dopo ciò, ricarichiamo l'elemento. Come vedete, tutti e sette gli identificativi sono stati aggiunti. Abbiamo anche due diverse date di nascita, una più precisa e una meno precisa. Quella meno precisa si può, in questi casi, rimuovere. Aggiungiamo ora le informazioni mancanti, secondo le proprietà che ci vengono suggerite. Per l'occupazione abbiamo un riferimento, che è SBN. Come inserire questo riferimento? Copiamo l'identificativo SBN. Lo possiamo fare o aprendo la pagina e copiandolo da qua, oppure copiandolo dall'elemento. Questo è l'identificativo. Lo copiamo. Inseriamo il valore occupazione sociologo. Aggiungiamo riferimento. La prima proprietà che si mette è la fonte del riferimento, la fonte dell'affermazione, che in questo caso è SBN, il Servizio Bibliotecario Nazionale. Poi si inserisce l'identificativo. E lo incolliamo. Infine è consultato il. E come potrete vedere, automaticamente, visto che avevamo attivato il gadget, compare la data di oggi. Ora salviamo la dichiarazione. Poi inseriamo il paese di cittadinanza. SBN non ci dice in questo caso il luogo di nascita, però ci dice che è un professore universitario. E quindi possiamo aggiungere anche questa seconda occupazione. Professore universitario. A questo punto, se ricarichiamo la pagina, vedrete comparire, a fianco al riferimento che avevamo aggiunto, un tasto Copia, che corrisponde al gadget da Applicate References che avevamo attivato. Questo tasto ci permette di copiare questo riferimento e di incollarlo presso altre dichiarazioni. Il che, come vedete, funziona perfettamente. Possiamo anche aggiungere, grazie a SBN, un'altra dichiarazione. E cioè il campo di lavoro, il campo di interesse. Sociologia della religione. campo di lavoro, anzi, interessato a, campo di studi, sociologia della religione. Come potete vedere, appena aggiunta la dichiarazione, non permette l'uso del gadget da Applicate References, quindi potete ricaricare la pagina e successivamente copiare il riferimento e incollarlo su questa nuova dichiarazione. Vedete questa freccia verde? Questa freccia verde vi permette di copiare la dichiarazione in un nuovo, o meglio, in un altro elemento, oppure di spostarla in un altro elemento, se, ad esempio, in questo elemento fosse stata aggiunta erroneamente. La stessa freccia verde comparirebbe anche di fianco ai sitelink, se ci fossero, in questo caso non ci sono sitelink, e permetterebbe di spostare questi sitelink in un altro elemento, se necessario. A questo punto possiamo ancora aggiungere la dichiarazione relativa al prenome, salvatore, possiamo aggiungere la dichiarazione relativa al cognome, abruzzese, queste dichiarazioni relative a prenome e cognome non richiedono riferimenti, e possiamo aggiungere la dichiarazione relativa alle lingue parlate o scritte, italiano, e alle lingue di scrittura, che sarà sempre italiano. Anche questa dichiarazione non richiede strettamente un riferimento, comunque basta entrare nel VIAF per verificare che le opere scritte siano in italiano. E quindi, a questo punto, possiamo ulteriormente aggiornare l'elemento per vedere tutte le dichiarazioni messe in fila, a partire da istanza D, scendendo, fino al campo di interesse, e poi tutti gli identificativi. Come vedete, questo elemento è completo, e se volessimo duplicarlo, abbiamo questo tasto da Applicate Disitem, che permette di duplicare nella sua interezza l'elemento. Ovviamente, duplicare un elemento significa poi duplicare non solo le dichiarazioni, ma anche gli identificativi, e quindi conviene sempre duplicare un elemento che sia molto simile al nuovo elemento che vogliamo creare, altrimenti si rischia di perdere più tempo nella rimozione degli identificativi e delle dichiarazioni non pertinenti, e quindi di vanificare il vantaggio. Se invece si stanno creando due elementi, magari con poche dichiarazioni molto simili tra loro, duplicare un elemento può essere molto conveniente. E con questo, alla prossima settimana.